... ... ... ... ... ... tagli ancora un po' Io ho potuto prendere poi gli altri, io ho potuto andare oggi Ma oggi, non è solo un passaggio più piccolo altro Beh, andando a un parrucchiero, spero Sì, sì, sì Sì, sì, sì Ma se fai lì 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 Perché? Ma se fai lì Allora Allora E' morto